La vicenda delle bombe prodotte dalla filiale sarda di un'azienda tedesca vendute all'Arabia Saudita e usate nei raid contro la popolazione civile in Yemen vi propone una serie di nodi irrisolti nella politica di esportazione delle armi italiane. Formalmente, come ha ribadito la Farnesina, è tutto regolare. La vendita di queste armi al governo saudita è stata autorizzata nel momento in cui il governo saudita non era impegnato in nessun conflitto e quando era nostro alleato nella coalizione contro il Daesh. Quello che sorprende è come da parte del governo e delle autorità non ci sia nessuna forma di rimorso verso quella che è una sostanziale negazione del principio costituzionale, del fatto che il nostro paese rifiuta ogni forma di guerra e la condanna. Queste armi vengono quotidianamente utilizzate, come ha dimostrato il New York Times, ma come non prima dimostrato le inchieste giornalistiche di Repubblica, dell'Espresso e il rapporto delle Nazioni Unite, per colpire civili, per colpire bambini, per colpire persone che non hanno nessun ruolo nel conflitto civile in Yemen. A questo punto sarebbe necessaria una presa di posizione, quantomeno a livello diplomatico, e almeno una forma di ammissione di responsabilità.